Debutta oggi sul canale YouTube dell'Icea Artistico di Macerata una web serie realizzata dagli studenti. Chiara Spegni. Motore. Azione. Alla fine c'è stato un lavoro di squadra e ci siamo proprio divertiti anche nel scrivere la sceneggiatura per quanto riguarda il mio gruppo. È stata proprio una bella esperienza. È stato un lavoro di squadra in cui ognuno ci ha messo del suo, dalla sceneggiatura allo storyboard. Parliamo del primo lavoro cinematografico realizzato dalla Quinta D del Liceo Artistico di Macerata. Questo è il primo cortometraggio serio che giriamo e sia stato abbastanza difficile girare tutto, organizzare le scene e tutto quanto, quindi è stato abbastanza difficile. Trovate il corpo. La formula è quella della web serie. Tre episodi online da oggi ogni martedì sul canale YouTube della scuola. In Quinto studiano la serialità, la comunicazione breve, la cinematografia, quindi abbiamo unito tutti questi aspetti in un unico prodotto e ci siamo messi in gioco alzando un po' la sticella, le difficoltà. Dietro la Quinta è un thriller, bocche cucite su trama e personaggi. Raga, avete notato anche voi il tipo vestito di nero? Per scoprire questa figura nera dobbiamo forza vedere l'episodio. Sì, esatto. Non dovrebbe mancare anche qualche trovata per i più appassionati di cinema. Chi sei? Sono la morte. Abbiamo inserito molte citazioni cinematografiche e molti easter egg anche della storia stessa che scoprirete e capirete solamente guardando tutti gli episodi nella loro interezza. Solito silenzio degli innocenti. Salute gobierno